La radio nazionale La radio nazionale La radio ci saranno dei contenuti che sono utili e che saranno dei contenuti anche tagliati ad uomo. Sono dei contenuti che ci permetteranno di aiutare le aziende anche per i problemi di tutti i giorni perché tratteremo tematiche che sono trasversali. Io chiedo a tutti quanti di scaricare questa app perché ci teniamo particolarmente e sicuramente sarà in futuro uno strumento a cui dedicheremo parecchio tempo e sarà uno strumento anche associativo per stare insieme perché fare squadra significa proprio questo, stare insieme ed essere motivati per l'unico obiettivo.